Prestigioso riconoscimento per lo sport di casa nostra, il nisseno Antonio Urso, presidente della Federazione Italiana Pesistica, è stato eletto segretario generale della Federazione Pesistica Internazionale, la International Weightlifting Federation, al termine dell'assemblea svoltasi a Tirana, capitale dell'Albania. Urso, al vertice della Federazione Italiana dal 2005, ha ricevuto 64 voti, uno in più del peroviano José Carlos Chinones. Quest'ultimo era il risultato eletto nel corso della votazione tenutasi sabato scorso, poi annullata a causa di alcuni errori nella gestione delle operazioni. Sono pronto a lavorare per il futuro della pesistica olimpica, ha detto Urso subito dopo la sua elezione. Da Roma è arrivato anche il plauso del presidente del CONI, Giovanni Malagò.